Pronto? No che... Ma dai, come si rientra a scuola? Ma sei scemo un culo! Ciao a tutti ragazzi, sono Travacnod5 in questo nuovo video. Oggi siamo su Yandere Simulator e visto che va a filo con il periodo quando rientra la scuola non ci cade il crimine, perfetto! Vabbè, partiamo subito New Games Andiamo, ok. L'ho provato per vedere come funziona e non si può fare ancora storie lesbo, peccato quindi tocca andare di omni Allora, vediamo, lo mettiamo un pochino così, poi i capelli c'era questo ok, facciamo facciamo gli capelli verdi no, facciamolo biondo, dai con gli occhi verdi e... no, aspetta mi ha brontamente una cosa neri, così, poi finish perché... si, voglio procedere per cui ho visto che si possono cambiare le uniformi mi sta molto bene questa che fa molto Matrix poi, allora, gli mettiamo qualcosa di molto... spacco bottiglia tipo questa, ci sta, bordello partiamo subito portami, basta il mio di telefono che scurra ogni 3 secondi aprile 2016 eh, è parecchio più avanti però va bene uguale partiamo tutti a scuola ah no, ok c'è... 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 oh, corkboard un po' ah ah, qui sono tutte le foto c'è abbiamo... l'uniforme che non si è cambiato non so perché, qua qui che c'è... ah i cosi i panties le pozzie di... di sangue sono... più piccole anche poi già è mutandina e qui ci stanno gli oggetti del senpai che è il tipo con cui ci dobbiamo provare perché anche lui c'ha... nella foto una... una divisa diversa però va bene uguale fa parte del piano e... andiamo a scuola se no si fa tardi, i prof si incassano ci tocca rimanere fuori, entrare la seconda ora e bordello allora c'è manciuale tranne per carica... ok porco cam... allora, una scuola che ti instiga alla violenza più di questa non esistono che con un coltello forbici, katana un trincetto e un cacciavite oh, però c'è lo scopettone qua ma se voglio... oh, la musica sta elevata oh, posso prendere a scopettate la gente? no, peccato oh, però come si fa a mollare... ok qui ci sta il corso allora, parla ah vediamo, ti faccio i complimenti oh, ciao si, sei fega, quindi... boh, bordello vai su già, ma dal senpai bordello ci stai? dov'è? lui è quello... matrix se vedete che laga... ecco aspetta se vedete che laga un pochino è perché ho messo la grafica a paletta anche se non cambia una cippa eh, però... per quelli che... ah, guarda va ci fai proprio la musica di sottofondo però non ce la metto, sennò mi stuprano il canale what's up with her? oh, mi bagno tutta e mi si sta suonando il telefono no, non ci vengo a scuola ok, dopo questa appassionale chiamata mi sono scordato di mettere pausa quindi sono tutti per i cazzi propri quindi parliamo con... che cazzo che c'è? i coni, ti metto le pallettine di gelato in testa maria macchina e sei un gelato un gelato, un gelato ambulante ah, grazie se è così gentile da parte tua direi di iniziare a ammazzare qualcuno poi intanto ad armarci io prenderei, vediamo un knife è troppo classico le farbici e ta la katana non si può nascondere il trincetto che fa molto scuola ok, magari qui ne manca un cacciavite prendi il cacciavite, grazie allora, andiamo in da class mentre loro se la cianci... che cazzo perché sei qua? matrix e ma... eh, aspetta vediamo se fa vediamo, eh, zoom piano, che è sensibile a best a questo caso, aspetta, levo i cosi dpi foto vediamo, send ma come? ma se c'è un culo proprio così non è perché c'hai gli occhielli e allora non lo riconosci ah, non ho bisogno di nessuna foto del tuo senpai la nostra prossima la prima vittima sarà vediamo... la testa con il gelato in testa mi sta appena sulle palle perché non puoi andare a giro con questa capigliatura non ti fa vedere proprio che fai con tu? qua, ok invia kokona, aruka, club dello sport persona coward, crush, nome perfetto lei sarà la nostra prima vittima qui tanto che è la riunione di matrix qui tutti i tizi e ora vedi iniziano a camminare il rallentatore allora andiamo in the class e lì c'è la prof che ho visto che si può uccidere però dipende dagli orari quindi facciamo chimica anzi no ci serve qualcosa tipo linguaggio ok vai pigia tutto conferma ok allora dovrebbero uscire tutti di classe l'Einstein a tempo di pranzo allora apri e allora vieni un po' dove è la tizia? ah ecco oh, arrivo Tanduari arrivo arrivo eh mi posso infilare nel discorso? niente non è niente se non vuoi parlare va bene ma ricordo sono tua amica e non sono qui per giudicare per niente non so se penso di parlare sto ascoltando quando mia mamma è morta mio babbo quando ha bevuto viene nella mia camera e glielo batte nel culo non la sono ascoltata non so di cosa parlare che? che? te l'ha buttato nel culo io non voglio parlare solo lasciami solo ok? ti rivolgo che c'è di che c'è di che c'è di allora allora io mi ricordo che c'era un modo per andare a scrivere a proposito di abuso domestico per favore accontrami sto on the roof no sul tetto alle vediamo facciamo quattro e mezzo finisci ok ora ora c'era un modo ecco fatto pass time che per skip tipo andiamo fino alle quattro voglio vedere perchè c'era un modo per farglielo leggere start waiting infatti vedi qua più veloce il tempo a me devo andare in classe aspetta in classe se no qui non mi non mi oh no ok oh ciao bimbi verdi scusa non l'ho fatta apposta cioè ero sul telefono un attimo guarda cioè lei non è messa dal telefono però gli è volato il tempo così ok adesso dovrebbero dovrebbe andare giù a leggere il coso le bigliette quindi noi ci piazziamo qua ci mettiamo al telefono a chattare boh non pass time andiamo su le chat erotiche così dai vai start waiting allora intanto andiamo le chat erotiche allora caro senpai oggi migratta la va a Jojo con la banana ho provato con eh no aspetta eh forse lo dovrei incontrare ecco bravo eh quattro e mezzo quindi ma anche sta aspettando lì davvero tu hai il coraggio di passare mezz'ora posti ma buh eh quattro e mezzo oh quattro e mezzo sei puntuale come un dito nel culo cioè quattro e mezzo devi essere lì non è quattro e trentuno quattro e ventinove no quattro e mezzo punto io t'aspetto là eh si sa mai ti gira qualcosa per la mente tipo più ci vuoi intanto la tipa lì è ancora lì blue faxit chiudiamo tutto speriamo che non pensa che sia questa qui se non è merda ma altro mettiamoci a parlare con la nostra amica del cuore delle principi sirene è lei proprio wow grazie si ma quell'altra oh allora te mi spiace ma prove non abbiamo bisogno di prove viventi testimoni eh e sapevo che si poteva fare una cosa grande ovvero farla fiandare di sotto quindi comunque non è la prova era testimoni comunque vabbè cioè non so non so parlare oggi vabbè eee adios perfetto eeeh va bene oh era ancora viva quando cioè vabbè avevuto quei due secondi si è mossa comunque oh che figata si è mancato il coso mmm send vabbè ma è cioè è un ricordo spettacolare cioè io voglio immortalarlo immortalarlo si comunque te sei troppo testimoni cioè sei troppo come si può dire troppe prove qui però se ti lascio lì non ti posso tirare giù vabbè rimane lì rimane lì come la troppo ok allora near body eh vabbè succede perchè ora noi andiamo a fare una cosa il ovvero noi si scende giù ci andiamo a lavare ok 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 questo qui dovrebbe essere il nostro armadetto allora nude naked nakediamoci oh yeah e andiamo a docciarci doccia eh tipo ah hanno fixato le impronte insanguinate prima lasciava i tizi in segno dei cosi delle scarpe ecco 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 in un'altra parte mi rimancio porca puzza no e mettiamo swimsuit eh scusami eh mi sbaglio cioè anche io posso sbagliarmi eh che boia allora andiamo a eliminare almeno le piccole prove che abbiamo mollato tipo allora beh cadaveri possono rimanere anche così perchè tanto basta che buttigli all'uniforme e togli il sangue da addosso e è l'arma del delitto basta che ti levi quelle lì e più o meno e non ti sgamano e non dovrebbero dirci nulla quindi dump e dump il cacciavite ce lo teniamo come ricordo attiva sappiamo andiamo a casa e non è successo niente perchè boia non è successo niente ma la regola è successo niente questo del fatto mando il sacri toccato la polizia e riportare gli studenti morti degli studenti morti l'investigatore nooo no ma non pulare come è possibile allora in questi assi si deve fare una sola cosa se si vuole fare qualcosa di più easy che tanto prima o po' ti sgamano no? aspettiamo che senpai in culo te lo onfi wow senpai nel culo ce lo onfi lai passi ehi ciao 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 allora fuori uno fuori due fuori tre fuori quattro poi vediamo fuori muori muori oh mio dio ci sta salendo il crimine questa è quella che prova appena entra a scuola morendo cane sembra sembra presente quella di sembra ora ve lo dico si riesca a parlare entro il tempo zero profondo rosso quando inizia a partire matti tutti lì 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 mi ha ucciso tutti lì mi ha ucciso tutti a parte il mio senpai mica guardate lì in cui noi questo della vita come viaggiava oh 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 do allora noi dovremo principalmente eliminare le prove Ok, adesso arriva la parte divertente Pulire 8 e 2 minuti Facciamo anche puntuali ad arrivare a lezione Cioè, che vuoi che di più? Ripulisci un attimo la scuola Ammazzi qua e là Va Un minuto per busciare tutto Torniamoci in da casa E non ci dovrebbero dire nulla Perché ho pulito tutto il mondo Ah, e nessuno si è incurato che è sparita mezza scuola? Ma io, questo senpai, ci posso parlare? Ci posso parlare? Così Eh, vedi che è sovraeccitata qui Dai No, no, ti voglio parlare Non riesco a dire niente Ti sto stooccherando invece Però dai Che cazzo? Ah, sono risuosso Non posso mai affrontare il mio senpai Bene ragazzi Questo era Yandere Simulator È venuto un po' un troiaio Perché Saperò un po' Come fare tutte le uccisioni speciali Poi Pulisci Sposta al cadavere E tutto Un bambordale di tempo E quindi Devevi saperci un po' A giocare e sapere come funziona Io ora Ci avrò fatto cinque partite incrocia in tutto Quindi non so benissimo ancora Com'è Ma Fatemi sapere un po' Come se vi piace Questa serie Voi mi schiaccia Spolliciate il suo paletta E vediamo cosa fare Nei prossimi episodi Quindi Ciao a tutti E alla prossima